Buongiorno a tutti, oggi sabato 7 gennaio, ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, versetti dal 12 al 17 e poi dal 23 al 25. In quel tempo, quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle Genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione, ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e dire convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoge, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie, dolore, indemoniati, epilettici, paralitici ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Oggi il Vangelo ci presenta a Gesù che percorre tutta la Galilea insegnando, predicando, guarendo, curando ogni sorta di malattia. Gesù è la luce che è venuta ad abitare in mezzo agli uomini. Infatti le grandi folle che accorrevano a lui testimoniano proprio che in terra e ombra di morte una luce si è levata, le parole del profeta Esaia. È come questo testo citato di Esaia ci trasmette. Ecco allora come Gesù, anche tutti noi cristiani battezzati, cioè incorporati a Cristo, così come ci comunica la Chiesa, no? Siamo luce perché viviamo della sua luce. E oggi il Vangelo ci comunica una caratteristica di Gesù, in modo che anche noi possiamo agire come agisce lui. Il testo infatti ci informa che Gesù percorreva tutta la Galilea. Gesù non resta fermo in un posto, non si sistema tranquillo in una città, in una casa, no? Gesù cammina sulle strade con la gente, gira nelle piazze, va in casa dell'uno, dell'altro, amici, conoscenti, sta a tavola con i ricchi, nei crocicchi delle strade con i poveri. Come ci dice il Vangelo, Gesù attraversa le frontiere anche della Galilea, penetra in Giudea, giunge fino a Gerusalemme, va oltre il Giordano, fino alla Siria e giunge alla Decapolis, terra pagana. Camminare ci rende portatori di luce, ci toglie le finzioni, ci fa sparire l'illusione che abbiamo su noi stessi perché ci mette davanti i nostri limiti e le nostre paure. Ma nonostante tutto camminando si va sempre avanti, solo se si va avanti, si va oltre, se si ha il coraggio di camminare oltre le frontiere, solo allora si prende uno stile, lo stile di Gesù. È interessante che per vedere la bellezza di un abito, per esempio, si facciano delle camminate in modo da vederlo indossato, no? Mentre si cammina, mentre si cammina si coglie la bellezza, lo stile del vestito, no? Di una persona, le grandi sfilate di moda, no? Così è anche la bellezza interiore, che è la nostra veste battesimale, bianca, luminosa, luminosa. Ogni cristiano ha il suo modo di portare la sua veste battesimale nel mondo perché con la sua vita può generare uno stile nuovo, può introdurre un nuovo modo di camminare con la sua veste, non come le tendenze del mercato, eh? Che alla fine sono sempre quelle, no? Il cristiano ha lo stile umile, semplice, vero, non finto. Il cristiano si riveste di Cristo, così come dice San Paolo, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo, ci dice Paolo. Ed ecco allora che la luce si manifesta perché camminiamo nella fiducia di avere Dio per padre. Allora oggi viviamo questo giorno così, percorriamo le nostre città con semplicità, con gioia, perché Gesù è con noi, è in noi e come Gesù proprio possiamo portare la luce, la pace, la consolazione, la guarigione che abbiamo ricevuto, sperimentato nella nostra vita.